Pina, Alessandro, Brunisa, Oreste, Marisa, Stefano, si sono abbonato, ho un amico che è abbonato e me ne presta. Io no, mia moglie. Sì, no, però ricevo l'abbonamento perché un amico ce n'è fatto dono. E qualche volta perché vado in biblioteca perché ancora non ho internet? No. La seguirai? Sì. Su Facebook? Facebook, sì. E sul sito online di Cittanova? No, perché non ne sapevo l'esistenza, ma adesso che lo so penso che andrò a curiosare. Sì, seguo Cittanova su internet e sono anche il vostro fan della nuova pagina di Facebook.